Ho rassicurato il sindaco in merito al sostegno che tutti gli stiamo dando per superare questo difficile momento. In particolare gli ho comunicato che chiederemo la dichiarazione dello stato di emergenza e che quindi il comune di Santermo non deve avere timore di spendere soldi per la gestione dell'emergenza neve. Le spese saranno attutite anche con l'intervento dello stato centrale. Lo ha detto il presidente della regione Puglia Michele Emiliano a margine di una riunione convocata presso il centro della protezione civile di Santermo in colle tenutasi ieri nel primo pomeriggio. Emiliano è arrivato ieri mattina a Santermo con un'autocolonna di mezzi della protezione civile regionale, dei volontari e dell'ARIF, agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, i cui mezzi sono stati adibiti al trasporto dei pazienti dializzati. Il governatore si è fermato a Santermo tutta la notte per verificare lo stato dei soccorsi e il coordinamento dei servizi. Il governatore ha annunciato l'arrivo in paese della brigata Pinerolo che già da ieri era al lavoro per liberare le strade dalla neve per raggiungere i casolari isolati. Ho richiesto al sindaco metropolitano De Caro che coordina gli interventi sulle strade provinciali attorno a Santermo di dedicare qualche mezzo anche al supporto del sindaco per lo spazzamento delle strade cittadine. Aspettiamo infatti nuove nevicate, bisogna affrontare tutto con decisione e impegno nella massima calma, ha concluso Emiliano.